Stati d'umore diversi, quelli che caratterizzano la sfida al comunale di Sala, dove il rosso-blu di casa, oggi maglia bianca, ospitano la stella e maglia rossa. La capolista, dopo il poker rifilato a Perticara, cerca lo scatto in classifica. Le inseguitrici non regolano al momento il passo. Il Sala, invece, dopo il capo interno con il ronco freddo, vuole riscattarsi facendo bella figura con la prima della classe. Abita la gara Alessandro Cappello di Imola. Con le immagini a cura di Giacomo Alpini si parte da questa rimessa laterale che porta a tiro finale il numero 5 ospite Garcia. Urbini non corre Patemi. Passano alcuni minuti dalla parte opposta, l'altro Garcia conclude in analogo modo. La capolista inizia a registrare la mira, quantomeno ad abbassarla rispetto ai tentativi precedenti. Una mischina di rigore viene risolta dalla conclusione finale a distanza di Fabri, pallone di poco sopra la traversa. La stella però finalmente inquadri il bersaglio e il tiro da posizione di filata di Garcia si stampa sul palo alla sinistra di Urbini. Da possibile gol fatto al gol subito. In una ripartenza del Sala, Serafini è desideroso di spazzare via il pallone, ma esegue una scivolata paragonabile a quella di Deborah Compagnone o di Alberto Tomba di un tempo, prendendo due versari con Ferraro Travolti in particolar modo dal numero 3. Capello di Imola decrete il penalty. Dal dischetto Zoffoli realizza con brivido con l'ex rimini in via di Temeroli che tocca il pallone ma lo accompagna involontariamente dentro la propria porta. Dopo la rete arriva questo tentativo dalla distanza di Foschi che schiaccia troppo la sfera. Il Sala continua a rendersi pericoloso. La penetrazione di Ferraro conduce alla battuta finale a Biassetti. L'attaccante resiste alla carica ma il compagno calcia in bocca a Temeroli. La stella, 36esimo, previene al pareggio. Da rimessa laterale Tani schiaccia troppo il tiro con la sfera indirizzata sul secondo palo dove un difensore del Sala in anticipo viene forse disturbato dalle retrovie da Raschi che indirizza la sfera sul piede caldo di Cicchetti che non sbaglia. Ristabilita la parità in campo. Poco dopo Raschi al volo non inquadra lo specchio della porta. Su un filo di tempo fa brisciare la soluzione della distanza senza fortuna mentre Sala recrimina per un penalty non concesso. Ferraro va via all'avversario venendo franato in area di rigore. Il palo dinanzi alla nostra postazione non ci permette di analizzare in maniera chiara la situazione ma vale la regola leggendare di Boscov. Rigore è quando arbitro fischia. Squadra riposta solo 1-1. Nella ripresa già al primo la stella ribalta la situazione. La penetrazione in area di Protti porta un pallone che carambola nei piedi di Garcia che da dentro in area di rigore fredda Urbini indirizzando la sfera nell'angolo lontano. Il Sala non si arrende anzi sfiori pari con questo tiro di Foschi che si spegne a lato. Da punizione ci prova anche Ferraro con questo stacco di testa che non c'entra il bersaglio mentre la punizione diretta in porta con comoda presa di Temerogli e a cura di Foschi. Sul versante opposto la stella non perdona con questo traversone spizzicato di testa a Garcia. La palla carambola sulla testa di Raschi che mette il suo nome nel tabellino dei marcatori per il 3-1 della capolista. Il Sala non demorde anzi trova subito il goda calcio piazzato con Milzoni gran gol il suo che merita il reprei. Davvero bella punizione da parte del giocatore entrato tra l'altro nel corso della ripresa. Lo stesso Milzoni ci prova poco dopo chiamando al tuffo Temerogli. L'ultima occasione è di Raschi con il tiro a giro che non porta effetti. La capolista si impone anche in quei di Sala legittimando il proprio potere in questa categoria. Soffre, va sotto, pareggia, ribalta la situazione, la triplica ma subisce l'ira, la voglia, la brillantezza di un Sala che giocando così divertirà il proprio pubblico e centrerà l'obiettivo prefissato in stagione. Ritagliandosi, ne siamo sicuri, meritate soddisfazioni.